Dove si pagano meno tasse sulle criptovalute in Europa? Benvenuti amici cripto investitori, benvenuti in un nuovo video con questa immagine che ci dice già tutto ma nel video di oggi andremo ad analizzare questo argomento e questa notizia. Prima di andare avanti però vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi altri contenuti come questo. Come ben sapete all'interno del nostro canale Criptovalute Italia abbiamo già lanciato una rubrica dedicata al mondo della tassazione delle criptovalute che si chiama Fiscalità Cripto che vi straconsigliamo di andare a vedere, infatti troverete 10 video che chiariranno a 360 gradi come funzionano le tasse sulle criptovalute in Italia. Nel video di oggi ci vogliamo spostare un po' dall'Italia e più che spostarci fare anche un paragone, cercare di comprendere in realtà quali sono i paesi, le nazioni più convenienti in Europa dove vivere per poter pagare meno tasse sulle criptovalute che so che a molti di voi può interessare in quanto il loro business principale per molti di voi è investire e tradare criptovalute, criptomonete. Ma questo non riguarda solamente le criptovalute, attenzione perché può riguardare anche quello che è il mercato azionario, quello che riguarda gli ETF e quant'altro, quindi tutto quello che riguarda il mondo degli investimenti e anche del trading. Quindi mi raccomando seguite con attenzione questo video. Naturalmente andremo ad analizzare questa immagine attraverso anche questo articolo, ok? E andremo a vedere qual è la classifica finale dei paesi più convenienti in assoluto dove vivere in Europa per pagare meno tasse sui vostri investimenti in criptovalute. Ceriamo subito un aspetto perché qui parliamo di capital gains tax, quindi essenzialmente noi quando andiamo ad investire non solo nelle criptovalute ma anche nel mercato azionario, il reddito da investimenti come ci dice anche questo articolo come i dividendi e le plusvalenze è tassato con un'aliquota diversa rispetto al reddito salariale di chi ha uno stipendio. Che cos'è il capital gain? Il capital gain equivale alla plusvalenza, ok? Però vi voglio leggere questa definizione qui. Con il termine capital gain o guadagno in conto capitale si identifica la differenza solo nel caso in cui risulti positiva tra il prezzo di vendita e rimborso di uno strumento finanziario e il suo prezzo di acquisto sottoscrizione. Si ha dunque un capital gain o una plusvalenza quando si vende l'azione ad un prezzo superiore a quella di acquisto. Quindi io compro un'azione Amazon a 1000 euro, vi faccio un esempio così banale con numeri random, la rivendo a 1500 euro, il mio capital gain è di 500 euro. Io andrò a pagare una plusvalenza, quindi su questa plusvalenza una tassa, ok? Che in Italia corrisponde al 26%. Tale misura costituisce soltanto una parte del rendimento totale di un investimento poiché non considera l'eventuale percezione di frutti periodici, dividendi. Ora, una cosa molto importante, ci tengo di nuovo a precisarlo, nelle cripto è leggermente diversa la situazione, nel senso che c'è questa situazione di pagare il 26%, ma per determinate cifre, quindi poi recuperate questa rubrica. Tra l'altro offriamo anche un servizio, quindi questo ve lo dico già in partenza, per chi vuole dichiarare le cripto in Italia o i propri guadagni dal mercato azionario, dal mondo del trading, eccetera, offriamo proprio un servizio che vi permette di servirvi dei nostri commercialisti esperti e quindi stare tranquilli perché poi le multe sono anche abbastanza salate se non dichiarate le vostre cripto e i vostri investimenti. Ora, in questo caso specifico, quindi la mappa odierna, quella che abbiamo visto precedentemente, si concentra su come vengono tassate le plusvalenze, mostrando come le liquidi fiscali sulle plusvalenze disferiscono tra i vari europei dell'Ocse, che quindi comunque varia, ok? Qui ci spiega proprio lo stesso esempio, che ve lo voglio rifare così è chiaro e non dobbiamo più entrare per quanto riguarda questo esempio nell'argomento, di come si paga una plusvalenza. Quando una persona realizza una plusvalenza, cioè vende un bene per un profitto, deve pagare una tassa su quella plusvalenza. Ad esempio, se acquisti una quota di 100 dollari e la vendi per 120, paghi l'imposta sulle plusvalenze e sul tuo guadagno di 20 dollari. Quindi le percentuali che noi vedremo qui sono relative sempre a quelli che sono i guadagni da plusvalenza, non solo nel mondo cripto, attenzione lo ripeto, ma nel mondo degli investimenti, anche nell'azionario e così via. Ripeto che però nel mondo cripto dovete riguardare, lo so, è la terza volta che ve lo dico ma è importante, dovete guardare questa playlist perché ci sono delle cose leggermente diverse, in quanto comunque, come ben sapete, ancora non c'è una normativa chiara in Italia che parla delle criptovalute, ok? Quindi addentriamoci all'interno dell'argomento e scopriamo quali sono i paesi più convenienti in assoluto. Partiamo da un presupposto, l'Italia è il nostro benchmark. Semplicemente perché molti di voi vivono in Italia e pagano il 26% sulle plusvalenze. Qual è il paese in Europa dove si applica l'imposta più alta sulle plusvalenze? Bene, è la Danimarca, con un'alicota del 42%. Al secondo posto troviamo la Norvegia, con un'alicota del 35,2%. Successivamente troviamo Finlandia e Francia al 34%. Poi, cosa molto importante, un certo numero di paesi europei non applica imposte sulle plusvalenze sulla vendita di azioni di lunga data? Questi includono Belgio, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Turchia. Tra i paesi che applicano un'imposta sulle plusvalenze, la Grecia e l'Ungheria hanno le alicote più basse, al 15%. In media i paesi europei hanno coperto le plusvalenze fiscali derivanti dalla vendita di azioni quotate al 19,4%. Vi ricordo che per le cripto in alcuni paesi le cose possono anche variare, perché su alcuni paesi le criptovalute, in linea generale non esiste ancora una normativa chiara, però in alcuni paesi praticamente c'è la possibilità di anche non pagare nulla sulle plusvalenze e sui dividendi. Un esempio può essere il Portogallo, vi faccio un esempio banale, ve la butto lì ma poi magari fatemi sapere se volete un video dedicato proprio anche a questa nazione o a nazioni di questo tipo. Qui possiamo vedere quindi che i paesi come l'Austria applicano il 27%, Belgio e Repubblica cieca hanno uno 0%, Belgio per esempio ci dice che le plusvalenze sono tassate solo se considerate come reddito professionale. Quindi come potete capire poi ogni paese ha una sua normativa, io non voglio entrare troppo nel dettaglio, voglio solo farvi capire all'ilà se siete investitori nel mondo delle criptovalute, anche su altri investimenti dove potrebbe potenzialmente convenirvi vivere, soprattutto se siete degli investitori importanti o dei trader importanti, cioè persone che comunque vivono anche di questo. Plusvalenze per quanto riguarda la Repubblica cieca, incluse nel PIT, ma i senti se le azioni di una società per azioni sono state detenute per almeno tre anni, cinque anni se è società a responsabilità limitata. Poi qui abbiamo comunque molte nazioni al 42, 34 e 34, l'Estonia che diciamo che è un paese che per quanto riguarda soprattutto i nomi digitali è un paese che piace molto, le plusvalenze sono soggette a PIT, 20%, poi abbiamo Francia, Germania come potete vedere è praticamente identica all'Italia, imposta fissa del 25% sulle plusvalenze più un supplemento di solidarietà del 5,5%, media 26,38. Grecia e Ungheria sono più basse, 15%, poi abbiamo un 22% in Islanda, un 33% in Irlanda, come vi dicevo il 26% in Italia, il 20% in Lettonia, 20% in Lituania, le plusvalenze sono soggette al PIT con un tasso massimo del 20%. Il Lussemburgo ha uno 0%, le plusvalenze sono esenti da imposta se un bene mobile come le azioni è stato detenuto per almeno sei mesi ed è di proprietà di un azionista non rilevante, tassato ad aliquote progressive se è detenuto a meno di sei mesi, quindi vuol dire che se sei un trader e compra e vende, lì in quel caso specifico vai a pagare le plusvalenze, se sei invece un investitore che investe nel lungo periodo non paghi le plusvalenze, come puoi vedere, che è un aspetto molto importante. I Paesi Bassi hanno un 31% di plusvalenze, la Norvegia come abbiamo detto 35,20%, la Polonia 19%, il Portogallo il 28%, però anche qui ci sarebbe da dire che, vedete, per ogni nazione poi ci sono determinate regole e leggi, anche per le cripto, che possono variare e si può arrivare in Portogallo per esempio allo 0%, ok? Slovacchia 0%, le azioni sono esenti dall'imposta sulle plusvalenze se sono detenute per più di un anno e non fanno parte del patrimonio aziendale del contribuente, quindi anche qui il trader può avere dei problemi, Slovenia 0%, tasso di plusvalenza dello 0% se l'attività è stata detenuta per più di 20 anni e invece tasso fino al 27,5% per periodo inferiore a 20 anni, quindi non è conveniente naturalmente, è più o meno come l'Italia, Spagna 26%, Svezia 30%, Svizzera 0%, le plusvalenze su beni mobili come le azioni sono normalmente esenti da imposta, Turchia 0%, le azioni negoziate in borsa e detenute da almeno un anno sono esenti da imposta, due anni per le società di capitali e poi il Regno Unito è il 20%, quindi come potete capire ci sono molti paesi anche più alti rispetto all'Italia, che magari qualcuno si lamenta è l'Italia, ma ci sono paesi peggiori, ci sono paesi migliori dell'Italia con un 15-20% e ci sono paesi dove c'è la possibilità, a seconda naturalmente di andare ad analizzare la tua situazione, di avere addirittura uno 0% e sulle cripto ci sarebbero anche delle regole aggiuntive che variano alcune volte, io non voglio entrare troppo nel dettaglio, però questo è linea generale nel mondo degli investimenti, quelle che sono le plusvalenze in Europa e questo ti può anche servire a capire già a primo acchitto quale potrebbe essere una nazione se stai pensando di trasferirti perché se sei un investitore e vuoi risparmiare sui tuoi investimenti e quindi metterti in tasca quelle percentuali che generalmente paghi, qui puoi capire potenzialmente dove andarti a trasferire. Fammi sapere nei commenti qual è la tua nazione preferita, dove vorresti trasferirti se vuoi ulteriori video al riguardo e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao e a presto!